Ciao da Apsim, se dopo aver guardato Juventus-Milan 1-1 mi è rimasta un pochino di positività residua, adesso, ascoltando, avendo ascoltato le parole di Massimiliano Allegri post partita, ogni positività è svanita, mi è stata tolta, non mi è rimasto nulla per quanto riguarda il prosieguo della stagione. O meglio, qualcosina resta sempre perché uno cerca di essere ottimista, però analizzando le parole, i fatti, le situazioni, insomma, davvero resta poco, con due punti in classifica e con un Juventus che quindi è sempre più risucchiata in zona retrocessione. E qualcuno dovrebbe dirlo ad Allegri perché ha parlato nella conferenza stampa post partita di una partita, quella col Milan, tra squadre di vertice. Quale vertice? Il vertice basso, probabilmente, con il Milan che invece ha il vertice alto. Adesso esagero magari, però è chiaro che la Juve dovrebbe essere una squadra di vertice, ma in questo momento non lo è e lo dice la classifica perché altrimenti ognuno si può attribuire qualunque etichetta e Allegri è sempre stato quello che ha criticato agli altri, il fatto di darsi delle etichette, di posizionarsi in certe situazioni senza averne reale merito perché poi contano i risultati. I risultati che non arrivano. Quattro partite, zero vittorie, solo due punti, guardando al campionato. La Champions League a questo punto prende un minario a parte. Ma perché le parole di Allegri mi pesano di più della partita stessa? Perché la partita è stata prevalentemente una buona partita. Possiamo discutere se la Juve abbia giocato bene fino al 75esimo, fino al 60esimo, fino al 50esimo. Per qualcuno si è giocato bene addirittura solo una parte del primo tempo. E posso essere d'accordo perché un tema fondamentale è questo. Perché e quando la Juve ha capito e ha deciso che non fosse necessario fare il 2-0. Però, obiettivamente, c'è stata un'evoluzione dal punto di vista della prestazione. Di cui, tra l'altro, vi parlo in un video a parte dedicato alla tattica che vi raccomando di guardare. Se siete interessati, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Ma questo passo in avanti non basta, sia perché non è arrivato il risultato, sia perché è comunque un passo in avanti sotto certi aspetti che nasconde, anzi neanche tanto, una tendenza dura a morire, troppo bassi, troppo rintanati dietro e troppo spaventati rispetto a giocare a calcio. Questa squadra non sembra intenzionata a giocare a calcio. Allegri non sembra intenzionato a far giocare a calcio questa squadra. E lo deduciamo dalle sue parole, appunto. E Allegri, sostanzialmente, sì, possiamo dire sostanzialmente, se l'è presa con Federico Chiesa. Non è inutile che adesso cerchiamo di edulcorare la cosa. No, ma Allegri voleva dire. No, ma Allegri ha ragione per questo e per quest'altro. Cioè, io penso che la pazienza abbia un limite. Possiamo accettare che vengano mandati via i giovani, possiamo accettare che Kinn arrivi tardi nel corso del calciomercato e parta da riserva. Possiamo anche provare a capire qualche titubanza di Allegri su Kuluczewski, che al momento è una riserva bella e buona e non riesce ad avere sbocchi, non sembra avere sbocchi davanti. Possiamo, possiamo anche, possiamo anche, ma proprio è l'ultimo sforzo possibile. Accettare le critiche preventive a un delict solo perché ha 22 anni, ma veramente su Chiesa no. Cioè, su Chiesa andiamo su un terreno inaccessibile. Cioè, le critiche in questo modo a Federico Chiesa non le accetta nessun tifoso, probabilmente. Perché Chiesa ci ha acceso veramente l'entusiasmo. Lui sì, l'unico la scorsa stagione. Cioè, se non fosse stato per Chiesa l'anno scorso cosa avremmo fatto? Per chi avremmo esultato? Per cosa saremmo stati soddisfatti nel guardare la Juventus? Per nulla, perché a parte Chiesa l'anno scorso veramente, veramente quasi nulla della Juventus. Dal punto di vista anche delle speranze, delle aspettative per il futuro. Se ci togliete anche Federico Chiesa non ci resta più nulla. Al di là del fatto che questa è una nuova stagione. Sì, una nuova stagione, ma compirlo dopo quattro partite non eravamo a due punti. Quindi anche su questo vorrei un attimo capire come si posiziona la tifoseria. Ma ci arriviamo dopo. In che senso Allegri se l'è presa con Chiesa? Perché Allegri ha detto Bonucci e Chiellini stizzito quasi rispetto ad una domanda di Fabiana della Valla di Gazzetta dello Sport che secondo me era assolutamente legittima e che non voleva criticare Bonucci e Chiellini ma voleva sapere qual era nella testa di Allegri il meccanismo che aveva portato alla scelta di mettere Bonucci e Chiellini non mettendo De Ligt. Era una domanda completamente diversa. Allegri secondo me l'ha fraintesa e quindi stizzito ha risposto che Bonucci e Chiellini hanno fatto una partita eccelsa, hanno fatto una partita straordinaria. E quindi deduciamo che se abbiamo pareggiato e abbiamo preso gol da Rebic non è colpa di Bonucci e di Chiellini, secondo Allegri. Rabiot ha fatto una bellissima partita e deve migliorare solo in zona gol perché si deve proporre prima per quando può andare a calciare e deve calciare meglio e quindi deduciamo che per Allegri neanche Rabiot è responsabile del gol che abbiamo preso e del fatto che non abbiamo vinto, non abbiamo portato a casa i tre punti. E quindi che cosa resta? Resta il fatto che Allegri ha detto ho sbagliato i cambi, avrei dovuto mettere giocatori più difensivi, leggi De Sciglio, perché quando arrivi alla fine di una partita e sei in vantaggio devi metterci il sacrificio e devi anche metterti a disposizione per fare il terzino. E alla domanda su Chiesa ha detto Chiesa è entrato in un momento difficile della partita, deve crescere, deve capire che cosa significa stare alla Juventus. Deve crescere nella consapevolezza di cosa significa stare alla Juventus. E siamo ancora con questi discorsi. Il DNA della Juve, la Juve che è come se fosse un'entità stratta superiore a tutte le altre. Allegri ha detto non cito le altre squadre se non si offendono, meno male, perché qualunque altra squadra avesse citato Allegri in questo discorso, cioè su quanto pesa il pallone alla Juve e quanto pesa il pallone in una qualunque altra squadra. È una squadra che sta sopra di noi in classifica. Sopra di noi in classifica. Quindi bassi con questa presunzione, abbassiamo questa presunzione, squadra di vertice dove il pallone pesa rispetto a chi? Non possiamo permetterci davvero di fare paragoni con nessuno. Chiunque è sopra di noi in classifica. Tranne il Cagliari e la Salernitana. Chiunque è sopra di noi in classifica. Anche lo Spezia con cui dobbiamo giocare dopo domani. E siamo di nuovo ad affrontare una partita. Per carità vogliamo sempre vedere la Juve in campo, soprattutto dopo una partita come questa col Milan in cui non si è vinto, per provare a vincere. E con lo Spezia veramente non ci sono scuse. Però ecco, vedete, c'è sempre la scusa. Una volta è colpa di Cesni, un'altra volta pure è colpa di Cesni, un'altra volta ce la prendiamo con Kinn, una volta è colpa dei giovani che non hanno capito che cosa significa stare alla Juventus. Poi arriva la partita in cui te la dovresti prendere con le scelte che hai fatto, con i vecchi che sono andati in campo, perché ieri la Juve è scesa in campo con un 11 con l'età media di 29,9 anni. Il Milan era 24,9 anni, invece no. Te la prendi un'altra volta con i giovani, te la prendi con Federico Chiesa. Che cosa ha sbagliato Federico Chiesa? E questo bisognerebbe chiederlo ad Allegri, ma bisognerebbe chiederlo ad Allegri che cosa intende del calcio, davvero. Perché non voglio sembrarvi eccessivo nei giudizi, però davvero basta. Cioè già basta. Perché mettere Chiesa pretendendo che faccia il terzino, ma dove siamo? Ma cosa doveva fare Federico Chiesa? Chiesa è entrato a un quarto d'ora, 20 minuti dalla fine, per fare il terzino. Perché questo gli ha chiesto Allegri. La lamentela di Allegri nei confronti di Chiesa è che Chiesa non ha capito il momento della partita e non si è messo a fare il terzino. Invece di andare nei contrasti, ha detto, di provare a fare un contrasto, ha continuato a giocare. Cioè pensate, pensate che matto che è Federico Chiesa. Calciatore, offensivo, praticamente un'ala, proprio al più basso che lo puoi considerare è un centrocampista esterno, ma Allegri l'ha definito un attaccante. Allegri qualche giorno fa l'ha definito, per me ha detto Chiesa è un attaccante. Pensate che stupido, che folle che è, entra in campo verso la fine di una partita in cui si sta vincendo ma si sta soffrendo e si mette ad attaccare. Ma questo da dove viene? Ma veramente non ha capito che cosa significa stare alla Juventus. Stare alla Juventus significa difendere, ti devi mettere dietro, non devi pensare a giocare la palla in avanti. Ti capita un pallone, retropassaggio, cambio di gioco, fatti fare fallo, e poi che cosa fai? Niente, perché non si può attaccare. Dobbiamo difendere. E questo è il problema. Cioè Allegri ha detto avrei dovuto fare cambi più difensivi. Io veramente quando l'ho sentito non ci volevo credere. Mi dovete credere. Perché ho pensato, anzi, che lui nella conferenza stampa, nelle dichiarazioni post partita, si sarebbe lamentato. Avevo pensato che si sarebbe lamentato del contrario, del fatto di non essere riusciti a fare il 2-0. Avrebbe avuto molto più senso, perché il primo tempo è scivolato così, con l'1-0, che andava bene, ma non benissimo, proprio perché non siamo riusciti a fare il secondo. E poi, scusate, chiesa chi l'ha detto che deve entrare oltre il sessantesimo? Perché non si può fare prima questo cambio? Perché si bruciano tre cambi in tre slot? Qualcuno vuol spiegare ad Allegri come si fanno i cinque cambi? Perché secondo me non l'ha capito. Devi farli in tre slot. Quindi se tu fai tre slot da un cambio, ti bruci due cambi e non li puoi fare più. E magari un altro cambio sarebbe stato utile alla fine. E poi è inutile che ce la prendiamo con Chiesa, perché se la colpa è tua, come ha detto Allegri, mi assumo la responsabilità perché ho sbagliato a fare i cambi. E allora vuol dire che hai sbagliato a fare i cambi? Basta, non c'entra niente Federico Chiesa, perché Chiesa è entrato per fare quello che doveva fare. Attaccare! È un esterno! Poi a un certo punto li ha invertiti di fascia. Kuluseschi a destra, Chiesa a sinistra, non si riuscivano a capire. Ma non ha capito nessuno dentro il campo. Non era soltanto Chiesa che non aveva recepito che cosa doveva fare. E poi, scusami, Chiesa arriva dalla panchina, quindi le indicazioni gliele dai quando entra, non quando sta in campo. Non è che a un certo punto entra in campo da solo e non hai avuto tempo di parlarci. Era lì. L'hai fatto entrare tu. Ha parlato Allegri con Chiesa per due minuti interi prima che entrasse in campo. Non so se l'avete visto. Era lì a parlargli. Normalmente Allegri non si scomoda per fare le sostituzioni. Le fa fare a Landucci. Lui resta dall'altra parte a guardare la partita. Invece era lì. Era lì a parlare con Federico Chiesa. E che cosa gli ha detto? Possibile che Chiesa non abbia capito nulla di quello che gli ha detto Allegri? Allora vuol dire che ci siamo illusi. Vuol dire che è stata un'allucinazione collettiva. No, perché a questo punto dobbiamo iniziare a pensarla così. Che Allegri ha sempre ragione. Allegri ha sempre ragione. Quindi tutto quello che noi abbiamo considerato, che abbiamo visto, che abbiamo fatto, era falso. Tutte le nostre convinzioni erano delle allucinazioni collettive. Ci siamo sbagliati. Chiesa non è buono. Chiesa non va bene. Non è un giocatore forte. L'anno scorso ci siamo illusi. È stata evidentemente... Era la mina vagante. Era l'eccezione che confermava la regola di una squadra pessima. quella, la Juve di Pirlo. Che però non ha mai lottato per la salvezza. Che però non ha mai lottato per la salvezza. E quindi siamo ancora a prendercela con i giovani e poi vediamo che Ranocchia e Fagioli in Serie B fanno gol. Sarebbero stati utili i gol di Ranocchia e Fagioli ieri col Milan? No, perché tanto sarebbero entrati a dieci minuti dalla fine e si sarebbe preteso da loro chissà che cosa. In che senso Bonucci e Chiellini hanno fatto una partita straordinaria? Ma a me risulta che Chiellini non abbia marcato nessuno sul gol di Rebic. Dov'era Chiellini sul gol di Rebic? Perché Rabiot va a saltare sulla traiettoria? L'ha già fatto con Napoli e che cosa ne è venuto fuori? Una svirgolata di Rabiot che ha messo fuori dai giochi Chiellini che si è trovato il pallone addosso e la deveva verso Chessny. Quindi noi difendiamo sempre allo stesso modo sul corner. Prendiamo gol e rifacciamo gli stessi errori. Di chi è colpa? Di Rabiot. Perché poi Rabiot se si mette sulla traiettoria e non salta non è colpa di Allegri ma di Allegri che continua a organizzare la difesa sul corner in questo modo. Poi la palla passa sovrastando Rabiot. C'è Locatelli che era in marcatura sul Rebic che se lo perde dall'attimo esatto in cui parte il pallone Chiellini non marcava nessuno. Infatti Chiellini va alla disperata a cercare di prendere lui il pallone per anticipare Rebic. Segno che non marcava nessuno. E poi non marcare nessuno a 37 anni sul corner? Poi non mi pare che Chiellini abbia fatto anche un altro paio di errori. A un certo punto stava scappando pure l'autogol. Cioè non mi sembra che abbia fatto questa partita straordinaria. Però non si può dire. Non si può dire perché se sbaglia Chiellini, per carità, lui incarna il DNA della Juventus. Quindi come mi permettete di criticarlo? Può sbagliare perché lui è comunque Giorgio Chiellini. Se invece sbaglia una virgola, un Kuluseski che entra a 10 minuti dalla fine, un Chiesa che entra a 20 minuti dalla fine, Khin stessa cosa, o magari Delict, apri di cielo. Eh ma no, hanno 22 anni, sono troppo giovani, non hanno 28 anni, devono imparare che cosa significa stare alla Juventus. Significa che se ti chiami Chiellini ai 37 anni giochi le partite che vuoi e puoi anche sbagliare tutto, non succede nulla, nessuno ti critica. Questo significa stare alla Juventus. Nonnismo. Nonnismo è potere. Questo significa stare alla Juventus. Significa svilire costantemente i giovani. Stare alla Juventus significa, dopo nove scudetti, fare una stagione ignobile, senza che nessuno se ne assuma la responsabilità, tranne il povero Pirlo, che comunque non era all'altezza, e poi, la stagione successiva, due punti in quattro partite. Significa questo stare alla Juventus. Scusate, ma Federico Chiesa a un certo punto perché non dovrebbe dire ma io me ne stavo alla Fiorentina, a sto punto ero in vetta alla classifica. Facciamoci due conti e facciamo due considerazioni. Per non parlare di Delict, di cui si è tanto parlato ieri perché non è stato scelto per questa partita, è stato messo in panchina, Allegri si nervosisce, se glielo dici, perché non si possono criticare Bonucci e Chiellini. Per non parlare appunto di Rapio, chi ha regalato il corner? Chi ha regalato il corner al Milan? Chi è che non ha saltato? Cioè, no, è colpa di Federico Chiesa, che deve entrare a fare il terzino. Ma allora, a questo punto, visto che Allegri ha ragione, Allegri ha ragione a dire che ha sbagliato i cambi perché se la sua intenzione era, come al solito, di rintanarsi dietro, disconoscendo il fatto che nel calcio si vince facendo un gol in più dell'avversario, un gol in più dell'avversario, non subendone uno in meno, avrebbe dovuto mettere De Sciglio. A questo punto, metti De Sciglio per quadrato, sii coerente, va benissimo, tanto è quella la linea, cioè non è che se tu metti Chiesa per quadrato e t'abbassi di 40 metri, t'abbassi di 20 metri, non puoi mettere De Sciglio. Metti De Sciglio, l'immagine, il segnale, il messaggio ai compagni di squadra e ai giocatori in campo è sempre quello è dovete difendere, vi dovete chiudere dietro. Infatti, nel secondo tempo, alla metà campo del Milan, c'era solo il Milan. Poi, ripeto, nel video, con la tattica e le statistiche, andrò anche ad approfondire perché non voglio mettere troppe cose insieme. Quindi, come si va avanti? Bisogna, ecco, capire i momenti della partita, ma che cosa significa esattamente capire i momenti della partita? Puoi giocare anche più basso, ma devi portare a casa la partita. In che senso giochi più basso e porti... Ma che cosa vuol dire portare a casa la partita? Cioè, sei in vantaggio 1-0, come la porti a casa? Fai scorrere il tempo, dici arbitro, mandi avanti il microfono, il cronometro, che poi noi ci siamo qui fermi, teniamo un po' palla. Cioè, cosa fai? Devi giocare a calcio, una partita a viso aperto, il Milan corre, gli altri corrono. Cioè, non riesco veramente a capire che cosa voglia dire questo, ma lo sappiamo perché Allegri era questo, lo sapevamo, Agnelli lo sapeva. D'altra parte, l'ha celebrato per il cortomuso, ha detto che lui era la teoria del cortomuso, l'ha chiamato per questo, e quindi evidentemente ad Agnelli piace questo tipo di discorso. Non c'è troppo da lamentarsi. Allegri non c'è neanche da stare tanto arrabbiato come ha detto. Bisogna giocare per la squadra e non per cose personali. Ma perché? Cioè, chi è entrato in campo per far vedere che era forte? Cioè, basta anche questo. Sicuramente sono giovani, ma hanno estro, hanno qualità, e sono giocatori offensivi. Se tu li metti in campo, cosa pretendi che si mettano a fare il difensore centrale? Il terzino, appunto, che senso ha? Fare entrare Chiesa per fargli fare il terzino. È veramente assurdo, secondo me, e quindi chi deve capire che sta alla Juventus, forse non è Chiesa, ma magari è lo stesso Allegri, perché davvero le cose stanno andando male, e stanno andando male, secondo me, perché si stanno gestendo male, perché non si sta capendo. Ha detto anche Allegri, devo capire in fretta chi sono i giocatori che posso mettere a partita in corso. Cioè, Allegri è deluso, deluso da Chiesa, deluso da Kulusevski, ma che colpa ne hanno? Ripeto, davvero che colpa ne hanno. E quindi davvero mi sono venute meno anche le poche certezze che avevo, perché, tra l'altro, ecco, il discorso chiusura, il discorso finale ai tifosi, ecco. Che cosa vi aspettavate seriamente quando è stato annunciato il ritorno di Allegri? Quando è stato annunciato il ritorno di Allegri? Io veramente l'ho presa malissimo, lo ricorderete. Ho detto qui, adesso va malissimo, ma non perché Allegri assolutamente andrà male, a prescindere, ma perché è una scelta sbagliata perché torni indietro. E invece c'era un'esaltazione generale. Mi piacerebbe sapere, quei tifosi che si sono esaltati per il ritorno di Allegri, che non perché avete torto, attenzione, ma vorrei sapere proprio nello specifico che cosa vi aspettavate. Cioè, quando è tornato Allegri, l'idea che è scattata nella testa, qual era? Che cosa sarebbe successo? No, perché io non mi aspettavo neanche questo. Nel mio pessimismo, questa roba qui non me l'aspettavo. Figuriamoci cosa di positivo vi potevate aspettare voi. Avevo io aspettative più positive, figuriamoci voi. Figuriamoci quelli che si sono esaltati per il ritorno di Allegri. Eppure la realtà è questa. E non so se avete notato, piccola parentesi, che dopo la partita con il Napoli, già con il Napoli, ma poi anche a Malmo, c'era la dirigenza schierata. Erano tutti quanti lì. Non mi pare ieri di aver visto la dirigenza schierata. C'era Agnelli in tribuna, per carità. C'era Nedved. Però dopo una vittoria, dopo una vittoria in Champions League, la dirigenza si è già tirata indietro e ha già pensato che non fosse più necessario una certa presenza, farsi sentire. Significa che le cose così vanno bene. Bene, mi aspetto allora adesso che con lo Spezia si torni un'altra volta a stare a bordo campo durante il riscaldamento per far sentire la presenza, per far vedere che bisogna fare un certo discorso. Oppure sono tutti soddisfatti? Oppure va tutto bene così? Davvero, non capisco. E per il futuro, per il resto della stagione, altro che Scudetto e quarto posto, bisogna veramente essere seri e fare le cose seriamente. Non svilendo i giovani, ma attribuendo le giuste responsabilità e cambiando gli atteggiamenti che sono controproducenti. È sotto gli occhi di tutti. Grazie per la vostra attenzione, buon dibattito ancora una volta nei commenti. Mi rendo conto che la situazione è difficile, vorrei portarvi un po' di ottimismo e positività, ma non ne ho, ve l'ho detto. Mi si è sgretolato dopo aver ascoltato le parole di Allegri. Mettete like al video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale attivando le notifiche per non perdere i prossimi contenuti. Abbonatevi per tanti vantaggi speciali, tra cui la chat riservata nei miei post partita della Juventus. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!